eccoci qua allora video post qualifiche che arriva un pello in ritardo rispetto rispetto al solito e non lo faccio dal dal computer ma bensì lo faccio da dal telefono molto più semplice mentre il post gara domani e il post partita di juventus inter la faccio dal computer peraltro saranno due video che usciranno la sera dopo la partita quindi uscirà prima post partita e subito dopo uscirà il post gara quindi è inutile fare due video separati anche perché poi dovrei staccare e riattaccare il computer un casino allora qualifiche del primo è una rabbia sorpresa e verstappen di per cui un po godo che partirà quindicesimo perché ha rotto l'albero di trasmissione e speriamo che gli si spappoli proprio la macchina domani cosa che non accadrà e leclerc partirà dodicesimo perché ha fatto secondo prima fila perez alonso allora detto sinceramente mi aspettavo che alonso andasse forte ma non mi aspettavo che andasse così forte ma per un motivo solo cioè stiamo parlando di non è che stiamo parlando della mercedes stiamo parlando dell'aston martin e quindi sai se vedi un aston martin partire seconda non è che storci il naso perché per carità ci sta e fernando che vabbè si sta trovando bene io penso che sarà che un fuoco di paglia questa aston martin ecco non penso che andrà avanti tutto tutto l'anno così assolutamente no anzi io credo che nelle piste un po più complicate e l'aston martin farà molta molta fatica ma non solo lei ecco faremo faranno fatica un po tutte io credo che sia un fuoco di paglia ma per un semplice motivo ragazzi non è normale che sia solo alonso quello bravo e poi stroll si trova nono perché se erano entrambe le aston martin ecco vedevi stroll partire non so quarto e alonso secondo mentre qui vedi stroll nono e alonso secondo quindi questo è un un po strano secondo me adesso è chiaro che strolla dei limiti ok perché è un pilota limitato però non mi venite a dire che l'aston martin era la terza forza nel mondiale perché io posso starci che magari la terza forza può essere la mercedes la seconda forza è la ferrari l'aston martin io la classico come quinta forza del mondiale quindi come macchina alle spalle to di un alpine o di una mclaren per dirne uno perché piastri oggi ha ha fatto bene poi ho capace che mi sbaglio e domani alonso vinca magari magari perché comunque bello e non so ragazzi io queste qualifiche le ho viste un pochino strano strane nel senso che vabbè leclerc aveva la penalità e o che cazzo ci vuoi fare e aveva aveva questa penalità amen e per quanto riguarda gli altri sinceramente io vabbè verstappen me l'ho detto ha rotto l'arbero di trasmissione quindi ok e perez vabbè poi me l'aspettavo perché non c'era verstappen c'era perez che rompe i coglioni quindi ok science sapete come la penso c'è quello fa una roba buona una volta di morta di papa e poi la gente critica leclerc va bene e non so io io sinceramente trovo che sia molto molto più clamorosa la seconda posizione di science che non la dodicesima di leclerc ma per un semplice motivo leclerc non sarebbe arrivato mai dodicesimo sarebbe arrivato secondo ma perché ha la penalità e quindi ok detto questo io ragazzi credo che domani sarà una una bella gara domani sarà veramente una gran bella gara e vedremo come andrà a finire perché detto sinceramente sono anche un pochettino curioso di capire come va a finire questa 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 gara questa stagione ancora presto per dire come va a finire questa stagione e sono curioso di capire come vada a finire questa gara domani perché avere quella l'onso lì significa divertirsi speriamo che possa in qualche modo rompere i coglioni a perez speriamo che science possa fare qualcosa e speriamo che magari leclerc tenga abbia voglia di fare qualcosa e riesca non dico a vincere la gara perché la vedo complicata però quantomeno ad entrare in zona podio che sarebbe il minimo visto che la red bull è sopra di te ma di parecchio e tesi un filo ma un filo molto molto lungo più sotto ok quindi va bene io ho detto questo ragazzi vi saluto vi do appuntamento domani doppio video sia post partita che post gara la sera quindi dopo la partita usciranno due video e nulla noi ci vediamo domani ciao a tutti